Stiamo vivendo a Fano una situazione drammatica con tanti ragazzi che non sanno dove andranno a scuola il giorno dopo cambiando sedi continuamente, uno spezzatino sia durante la giornata che dei programmi quindi un danno che le famiglie giustamente oggi stanno segnalando di oggi la raccolta di firme di 500 familiari che stanno protestando per questa soluzione che è completamente inadeguata oggi sono emersi due fatti, il primo che la provincia non aveva chiesto soldi per una progettazione straordinaria sulla scuola Nolfi la seconda che molto probabilmente non ha potuto accedere nemmeno ai finanziamenti miur per l'antisismica perché non c'era un piano di fattività, non c'era un progetto quindi qui siamo di fronte all'assoluta inadeguatezza dell'amministrazione provinciale che in modo dilettantistico a pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico ha chiuso due scuole senza avere un piano B, senza sapere dove andare a parare e soprattutto non ha ancora un progetto chiaro di cosa vuol fare nel frattempo l'anno scolastico è iniziato e secondo me chi pagherà le conseguenze di tanta inadeguatezza sono proprio gli studenti e questo è un vero peccato abbiamo visto un sacco di foto di gite romane ma non c'è una risposta concreta che dia il senso di una soluzione a questi ragazzi e questo clima secondo me è una cosa che non può durare a lungo